Un lato B è pur sempre un lato B Sì, quello sì, siamo d'accordo Il tuo è meglio di altri, però insomma Però magari quello di un altro che non è un VIP è meglio del mio A VIP Show con Il nuovo menu alla carta della capannina di parla Multigrifo, il fashion outlet più conveniente che c'è Negli eventi più esclusivi della Franciacorta, voluto e organizzato appunto dalla cantina Le Due Querce O per rappresentata la lussuosa regalistica natalizia dell'azienda Un cesto, il vecchio cesto, diciamo così, quello tradizionale per il Natale 2013 sarà ancora attuale Oggi più che mai, perché il cesto natalizio con i contenuti enogastronomici è un prodotto che puoi usufruirne Puoi degustarlo ed è un prodotto che non va sprecato niente Buon Natale! Abbiamo puntato sulla qualità, mantenendo dei prezzi minimi Possiamo dare un accenno, per esempio, del prezzo minimo? A 35-200 euro Questo è il bauletto 18 per asimo Dai cesti natalizi all'autoscatto con il cane, uno con l'amica del cuore, uno allo specchio Che viene meglio? Per noi il passo è breve Si può fare, non è così complicato Eccoci ritrovati ad un'ennesima serie di VIP Show Tutto torna Siete pronti ad assistere allo spettacolo dei famosi? Un giorno sì, un giorno no Mettetevi comodi, buttate il telecomando e cominciamo con la mania di farsi le foto e postarle sui social Che ha contagiato già da un po' le celebrity Quindi? Si chiama selfie, questa nuova dilagante ossessione praticata ormai anche dai non VIP Non è il massimo amore Il selfie però potrebbe portare con sé conseguenze impensabili Lo stalking e i molestatori sono lì, dietro l'angolo Non se ne può più Sei stata una delle pioniere di questa nuova moda, l'autoscatto Per poi postarlo su Twitter o su Facebook Tutte voi e tutti voi avete combattuto contro i paparazzi che invadevano la vostra privacy Quindi vi autopaparazzate? Beh sì, è un po' buffo da dire ma è esattamente così C'è un po' anche un pizzico di egocentrismo sempre Sì, direi proprio di sì Ormai è così, mancano solo le persone che fanno vedere anche quando vanno in bagno Insomma Salute Cosa naturale, siamo esseri umani Però cosa pensi di chi invece utilizza questa nuova moda in maniera eccessiva? Il primo pensiero che viene in mente Mamma mia, ma guarda questo O guarda questa, ma che ridicolo, ma che buffone, ma troppo Ci rattristisce sicuramente Ho pubblicato anch'io delle mie foto un po' sexy Però alcune sono troppo sexy Con le tette fuori, tutte le pose Non vedo perché ci dovrebbero essere delle polemiche Non lo so perché lo fanno La mia piccola aiuto La mia piccola aiuto Cerco anche di sdramatizzare, di dire ma sì, che cosa c'è di male Dai, non è niente di che Sono cose anche magari che uno fa con semplice autoironia È l'ora di finirla con questo atteggiamento L'ho fatto ogni tanto, mi sono divertita, ero single Proprio alla frutta Però ti dico la verità che poi mi sono anche un po' pentita Vi prometto che non lo faccio più Ah, vabbè, sì, vabbè Lasciamo Guendalina le sue promesse da marinaio Invece per noi c'è la regia che chiede la linea Non deve diventare una regola Basta ladri in casa, è ora di mettere a sicuro la tua famiglia e le tue cose I prodotti Hypertech si basano sull'avanzata tecnologia israeliana Rendendo i nostri sistemi inattaccabili ed impossibili da disattivare Ti aspetto nei nostri punti vendita di Parma o Milano Hypertech, tecnologie per vivere in sicurezza Praticamente questi social hanno preso il posto degli uffici stampa ormai Una sorta di autopaparazzà, se no questa Sì, con la differenza che ti scegli tu la foto Sentite la mancanza dei paparazzi? Vabbè, mancanza dei paparazzi no, però è un'intimità diversa Che ti può comunicare in un'altra maniera In maniera meno artificiale, meno artificiosa, meno programmata, no? Ti viene e lo fai Non è che si sente la mancanza del paparazzo Che la mancanza del paparazzo non si sente mai Perché in realtà il paparazzo non ci manca Perché noi vogliamo essere i paparazzi di noi stessi Questa è la verità Quindi ogni momento lo vogliamo immortalare così E poi soprattutto, mentre il paparazzo ti becca Quando tu non te ne accorgi Già alla fine tu dici, vabbè, io voglio questo scatto qua Tantalo, vai Ci proverò In alcuni casi magari a volte è esagerato Io parlo di me e devo dire che nel momento in cui ti viene di farti un autoscatto Perché vuoi comunicare qualcosa Che magari un paparazzo non riesce in quel momento A far vedere veramente quello che vorresti, no? Credo di sì È una sorta di riconoscenza In quanto ci sono tantissime persone che ci seguono Ci chiedono consigli Ci sono accanto in momenti belli e anche difficili È a coloro che noi dedichiamo degli scatti Quindi spesso sono scatti che non vogliono sembrare o essere eccessivamente sexy Sono anche un po' ironici Beh, Cecilia Se i tuoi autoscatti sono ironici La domanda sorge spontanea Ma tu, l'insalata Te la mangi o te la fumi? Sigla! Come prego? Tra più sulla supercazzo Lo scappolamento a destra o a sinistra? No, la cappella a sinistra e a destra Antibobio Grazie a tutti Ma guarda, io lo faccio poco Perché comunque è una cosa che non amo Né essere fotografato tanto Né comunque autofotografarmi Fai di Twitter, quelle cose lì Io mi sono iscritta da poco Da 5-6 mesi che mi sono fatta il profilo di Twitter Non dire però che non ti sei mai fatta un autoscatto Da postare L'uso per le cose ridicole Non per mettermi in posa Tutta figa queste cose come le altre Che mettono le unghie, i capelli Mi sono stancata parecchio Io lo uso un po' per autoironico Quindi faccio un po' foto più simpatiche Ma secondo me... Nexi Perché non c'ho niente da, però Non mi inizierai neanche, ce lo prometti Ve lo giuro Non vedrete mai foto scandalose Scandalose Buongiardi Dipende dal livello di egocentrismo di una persona Più sei egocentrico, più osi Però devi metterti anche nei panni di chi riceve il messaggio E quindi potrebbe essere frainteso Ho fatto tanti spettacoli sulla violenza delle donne Quindi è un argomento che mi sta proprio a cuore E si cerca di non oltrepassare un limite Comunque Perché la figura della donna è importante, bella Fondamentalmente, quindi un sorriso Uno sguardo particolare, eccetera Ci sta sul web Però non significa che questo comunque debba mettere in condizione una persona Questo è ovvio, certo Però la mia è una provocazione Diciamo che un equilibrio E controllare un po' sempre quello che si fa Sarebbe intelligente Ma il corpo femminile è così bello Che se uno lo pone in maniera Non volgare Ma in maniera elegante È bello E non dovrebbe essere comunque giudicato male Rave le mie colleghe che fanno vedere le loro cose Le loro mercanzia Questa è una cosa sbagliata I paparazzi devono stare in galera Come in galera Come d'altronde ci insegna la cronaca Voi dovete giudicarmi per quello che dice la legge Non essendo bacchettona E sperando che non lo siano gli altri Mandando una foto magari in costume Un po' sexy Non penso di far qualcosa Di volcare o comunque Quello assolutamente Molte tue colleghe Hanno fatto un utilizzo abbastanza estremo Non pensi appunto possa essere pericoloso Vabbè le menti un po' di un certo tipo ci sono ovunque Nel senso che non è che per forza bisogna uscire in minigonna per essere violentate Magari non è neanche quello Si tende a voler stupire attraverso i nudi Ma questo non solo le star, le celebi italiane Anche Mai avete contagiato tutti Che sicchia Il tuo Papa Francesco ha visto che usa l'autoscatto Francesco L'autoscatto insieme ai fedeli Che tale è un genio ragazzi Questa è stata troppa Questa è avanti Questa è avanti Anzi come che non l'hanno ammazzato prima ancora non lo so Che cosa hai detto? No nel senso Uno così rivoluzionario In tempi diversi l'avrebbero già fatto fuori Evidentemente anche lì c'è voglia di cambiamento Per grazia divina è arrivato Meno male Ce lo teniamo stretta Quanto stupisce un seno o un gluteo? Ma quanto stupisce? Ormai siamo abituati Ognuno è consapevole di quello che fa Quindi ne va in merito e... Boh Non penso che sia un istigare alla violenza o ad altro Dall'altra parte non si sa mai con chi si ha a che fare Certo una persona normale magari apprezza le tue forme Apprezza la foto e finisce lì Una cosa che non avevo mai a cui pensato Sta cosa qui effettivamente era... Ci dobbiamo vedere più spesso vedi? È vero mi devi aprire un po' di più gli occhi Sì secondo me sì Hai in mente il tuo prossimo autoscatto? Ma non è che io me li preparo eh Dipende dagli avvenimenti Dallo stato d'animo Dallo stato d'animo Poi io non necessariamente tutti i giorni posto un autoscatto Io utilizzo molto Instagram perché ho un blog Un fashion blog A me sinceramente poco interessa Poi io comunque sono fotografa Quindi ho comunque questa mania di fotografarmi eccetera eccetera E soprattutto di condividere con le persone che mi seguono Le quali mi chiedono Magari adesso fai un servizio Magari adesso fai una cosa Mandami una foto piuttosto che... Io ho Twitter Quella su Facebook non sono io Quindi diamo appuntamento ai tuoi fans su... Twitter assolutamente Apprezzo molto la originalità Io trovo che i social Il web in generale Internet Sia una bella invenzione L'importante è non esserne succube Cioè la vita poi va vissuta Dove ci si può toccare Ci si può annusare Ci si può guardare negli occhi Non ha nulla a che vedere Con una postata Sul web A questo punto Pausa pipì per tutti E poi tornate lì sul divano Perché dopo la pubblicità Si parlerà di tradimento Vip Show vi aspetta dopo la pubblicità Con Taverna e spumosa Birra Eventi E buona cucina Hypertech Tecnologie per vivere in sicurezza Bentornati a Vip Show con Fruscia La divisa della seduzione Un posto Amore Il ristopizza Dal sapor mediterraneo La bella vita It's a beautiful life To let it in your heart La bella vita It's a beautiful life No matter who you are Che numero hai da darmi Vincente mi raccomando Non come hai fatto con Bisio Dammi tre numeri Uno Due Tre Attenzione a casa Questo è uno che se ne intende Di lotto E vai Venti Visto che oggi è il ventesimo anniversario Del nostro ristorante Lotto Che è un numero particolare Un numero magico E il dieci Vai non fare così Riproviamolo Dammi altri numeri Quattro Cinque Sei Vent'anni del tuo ristorante Qui a Milano Ma qual è il segreto? Non essere mai uguali agli altri C'è impegno nei costamenti Prodotti tipici della terra In cui ci troviamo Un mix tra l'Oriente e l'Occidente Tutte le persone che vengono qua Si sentono a casa Quindi c'è un bel rapporto Che continua Anche clienti che si trasferiscono Vengono a trovarci solo per salutarci Giulia ci sono un sacco di disastri In questo periodo Quindi noi parliamo di cose molto serie Del sushi Del sushi Parliamo del famoso sushi Che io adoro Io adoro i pezzi Il sushi di salmone Bene E se come mai Come mai Secondo te appunto la domanda Mi è solta spontanea Ma forse perché Il salmone ha un retro gusto Più dolciasto E' più grasso Poi si percepisce subito Se è un pesce Soprattutto il salmone Se è fresco o non è fresco Se non siete d'accordo Fatevi sentire Da quando ho scoperto il sushi Credo che tre volte a settimana Se non di più Io ogni sera lo vado a mangiare Meglio un piatto di sushi O non so Una lasagna alla bolognese Il mio piatto preferito in assoluto Sono le pappardelle Ragù di cinghiale E o di lepre Con mille chili di scaglia e di grana sopra Molesterolo alle stelle Io più solo Ma se no non si gode Cioè allora le cose O si fanno bene o non si fanno Nella vita bisogna godere Possibilmente Sempre Quindi ecco Quindi se dobbiamo mangiare Lo facciamo bene Se no non lo facciamo Ma non lo farei mai Visto che stasera siamo La location principe milanese Per quanto riguarda il sushi Siamo a Milano E' assodato Che stimola anche quella roba là Ma guarda Io ho già capito No no Cosa hai già capito? E' maliziosa Pensi sempre solo a quello Sì Stimola il pesce il sushi Sì Più o meno il pesce Non l'abbiamo mai che a sentire Tutto questo A proposito di sushi Un sondaggio che è apparso Proprio in questi giorni Leggo testuale Sei italiani su dieci Scelgono un ex Per tradire Ma cosa c'è con sushi? Scusa Ah perché il mio ex è giapponese Secondo un'indagine realizzata da un celebre sito di incontri extra coniuga Mirano l'acqua al loro mulino giustamente Io gli ho dato solo qualche consiglio Non ci credo Assolutamente sì Riscaldate no Come il pesce dopo un po' va Puzza Innanzitutto peggio per loro Io sono Io mi disiace Poi risulto un po' bigotta da questo punto di vista Però io sono anti tradimento Le minestre riscaldate secondo noi non vanno mai bene Boh Mai tornare indietro Nel senso Ormai è ex Next Fine Basta Perché tornare indietro anche nella vita non ha mai portato buone cose Noi abbiamo voglia di freschezza Adesso io sono stra 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 e plurifidanzatissima Lei è single quindi in questo caso È single Io sono single Poi più avanti vediamo Cionchioli mi collo però da single Una volta che sono fidanzata Nel momento stesso in cui pensa qualcun altro per me già è tradimento Punto Ma soprattutto se devi tradire ma proprio con l'ex Ma viva la novità Tanto se non è andata bene non andrà bene neanche stavolta No Noi due siamo fidanzate perché ci dividiamo soltanto la notte per dormire Sì praticamente non ci dividiamo Luca Marin ringraziando Dio Marin è molto molto bello però non è il mio tipo E quindi insomma non ce lo dividiamo Però ti dico che lei è talmente mia amica che se una sera dovessi aver bisogno me lo presterebbe Questa la vendo al miglior offerente Facebook ha contribuito moltissimo a dare una mano a questi sei italiani su dieci È inutile questa storia io ho fatto l'assistente di volo per tre anni e non ho mai tradito Se uno vuole farlo Facebook non Facebook Instagram Twitter è tutto qua Io sono vedova figura di Facebook Il mio cosa personale la dicitura c'è chi dice che è single che è disponibile Che io sono vedova perché tutti i miei ex sono morti e sepolti Vedo che ti stai toccando Sì sì Guarda un attimo qui Penso che ci sia una sorta di certezza no? Non è la minestra riscaldata è la certezza di trovare una persona che tu conosci che magari ti è già piaciuta e con cui sai che magari in quel momento non vai a rischiare nulla perché quando vai con uno nuovo magari non ti piace come bacio magari non ti piace il profumo vai con l'ex e quindi sei più sicura Beh quello sì si potrebbe fare però se fai questo nuovo non c'è un buon profumo lo saluto e dico ciao Ah ma che è? Ma chi c'è? Un cane morto a voi? Non potrei mai ritornare con un ex perché se no non l'avrei mai lasciato Sei contenta lei Da questi tuffi nel passato si rischia di restare rapiti molto più che da un tradimento occasionale con sconosciuto Ma è una grande cazzata la stai dicendo tu adesso? Questo è uscito Perché se vai con l'ex allora la metti a repentaglio se vai con qualcun altro meglio sconosciuto allora la storia va alla grande no A noi non è mai successo devo dire pur quanto io e lei siamo anche molto diverse però vedi A dato a dato chi ha avuto ha avuto Chiamerò questo sito perché veramente mi hanno fatto fare una figuraccia con tutte voi Sei perdonato Qualcuno non so amiche o amici che hanno adottato questo metodo per tradire insicurezza No per tradire no però per rintracciare gli ex per poi ritornare sui loro passi sì Io ho avuto la possibilità e la fortuna di avere due grandi amori che si sono trasformati in due grandissime amicizie Quindi secondo te tra uomo e donna ci può essere una sana e sincera amicizia solo dopo il sesso? Bastano le persone nel lasciarsi con grande intelligenza e capire comunque le persone sono compatibili non come amanti ma come amici No 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 con un ex mai Io e te non siamo mai stati insieme quindi Beh fatti vedere no con te no Magari c'ho qualche Sono un metro e novanta in su se hai fatto No 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 assolutamente nessuna possibilità Non mi piacciono quelli belli Aiuto Guarda lì la viene Che dire ci sono delle novità ragazze Ma c'è una novità stiamo collaborando entrambe con una rivista online che si chiama WebSpot Magazine per la quale ci occupiamo di due rubriche diverse Ho appena scritto un pezzo su Raffaella Pico perché non mi è piaciuto tantissimo il suo calendario Ma nella vita tutti si mettono in gioco e bisogna mettersi in gioco Io non dico che non è bello io penso che l'amico sia una donna bellissima Penso che una mamma di una bambina di otto mesi poteva sbogliarsi ma poteva farlo in maniera più elegante Trovo che le foto siano al limite del pornografico c'è modo in modo per fare un calendario per sbogliarsi Ha chiesto scusa il presidente della repubblica è sceso in campo Non c'è invidia io quando vedo una bella donna lo dico Tu che sei stata mamma diciamo recentemente avresti fatto un calendario così Sai quando hai una bambina piccola sinceramente tutto ruota intorno a lei non è che c'è molto tempo Poi ovvio che se venisse uno e ci proponesse una cifra esorbitante è vero ci penserei E' sempre meglio che lavorare Che fa un'ex velina? Faccio dei lavoretti ogni tanto ovviamente lo seraggio ospitate cose varie E queste sono cose che arrotondano però sono aggrappata anche a una vecchia cosa che ho lasciato in sospetto ovvero la scuola A proposito di ex Il tuo ex che si è dato al porno Sto usando pure la recitazione No Certo Mando attore Beh almeno ho riuscito a fare qualcosa nella vita sono contenta per lui Ha fatto strada Non importa che strada prendi se quella è la tua strada almeno ha fatto strada no? Buongiorno buongiorno un'impara Sapete qual è la mia frase che scrivo sempre nella rubrica? Non si dice ex ma si dice next Le nuove veline che sono arrivate che giudizio dai? E' ovvio che siano belle se non sarebbero lì Si sono viste un po' impedite nel ballo rispetto a voi effettivamente eravate già molto avanti Si perché io arrivavo con una base diversa da loro io ero già preparata facevo ginnastica l'est Aveva già lavorato a quelli che è il calcio e già ballava quindi ci siamo trovate già più avvantaggiate Loro sono arrivati e hanno mosso piccoli pasti però diciamo che adesso stanno ingranando bene Sto scrivendo, scrivo tanto, scrivo per vari web magazine Bello mi piace da morire, io ho sempre senato di scrivere Adesso ho lì nell'angolino nel cassetto anche un libro Vediamo, mi piace molto 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 Perché no? Molto serena Sono fenomeni televisivi del momento e non è la fortuna A proposito di calendari, chi appendereste al muro per il 2014? Marco Bozzi tutta la vita Luca Marin Non è per tutti così facile Questa storia qua 8-9 mesi, tutto bene? Tutto a posto Si? Trasferita a Milano Mi è toccato Però no Mi è toccato perché? Perché l'amo ovviamente Sennò stava a Roma Invece appendere al muro nel vero senso della parola Dammi lo scoop Io non prendo la tredicesima Pensatemi No, sto pensando Sto anche riflettendo Non c'è nessuno che mi sta così talmente sulle palle D'attaccarla al muro, eh? Di uomini Fuori le palle Tu sei libero al fine del weekend prossimo? Cerco di liberarmi Signore, è stato un piacere Grazie anche nostro Come sempre A questo punto Chiudiamo Eh sì, chiudiamo Non so voi Ma noi ci siamo divertiti Bye bye A VIP show con Rushia La divisa della seduzione I keep, I keep And get up Oh Grazie.